Quarta vittoria esterna della Turris che batte con un netto 1-3 in Monterosi. Dopo la vittoria interna nel derby con la Juve Stabia, Mister Caneo opta per due cambi, inserendo Loretto per Varutti a sinistra e Sartore per Leonetti in attacco. Inizia equilibrato con i padroni di casa che sfiorano il vantaggio con Di Paolo Antoni, che di testa manda a lato, mentre al quattordicesimo Santaniello, con un'abile rovesciata, impegna non poco sul primo pallo Marcianò. Al dieciannavesimo i Corallini rompono gli equilibri grazie ad un rilancio assist del portiere Corallino Perina, che serve a Santaniello, abile ad infilarsi tra difensore e portiere, depositando in rete con un colpo di testa dal limite dell'area ed è 0-1. Al trentunesimo Monterosi vicino al pareggio, Franchini al tiro ma Perina con un balzo parabilmente. Al quarantacinquesimo Tascone perde palla, Polidori va a terra dopo un presunto contatto con Perina e l'abito assegna il penalty. Lo stesso Polidori si appresta a tirare centralmente ma il portiere Corallino le spinge confermandosi par a rigori. Nella ripresa fuori Santaniello, dentro Leonetti. Al secondo minuto Giannone serve Sartore, destro secco all'incrocio ma Marcianò devia sul palo. Al cinquantaduesimo la Turris raddoppia grazie ad uno sgusciante Leonetti, abile a rubare palla ad un difensore all'interno dell'area e subire falo da Mbendè. Calcio di rigore, dal dischetto Giannone non sbaglia e porta la Turris sullo 0-2. Al settantaduesimo Leonetti, ben servito da bordo, non perdona e porta la Turris sullo 0-3. Nel finale di gara un guizzo dei padroni di casa che accorciano le distanze con Caon. La gara termina con un netto 1-3 e lunedì alle 17.30 con diretta Rai Sport, la Turris ospiterà il Catanzaro, una delle candidate alla vittoria finale in un match dal sapore di play-off.